La storia prendeva forma poco a poco. Così piaceva Pilon, che le storie saltassero fuori e non tutte in una volta. Il meglio di una storia nelle cose dette a metà, che l'ascoltatore completa di suo, con la propria fantasia e con la propria esperienza. Esiste una sola grande narrazione comune a tutte le storie e a tutti i romanzi, ovvero si nasce, si cresce e si muore. La cosa che costituisce i romanzi e le storie tutte, in realtà è un frammento di questa grande storia che noi di volta in volta riplasmiamo. All'interno di questo corso cercheremo di capire quali sono gli strumenti necessari per dar vita alla nostra narrazione e come utilizzarli in modo tale da lasciare libero il lettore di rimuoversi dentro la nostra storia. Io sono Alessio Forgione e vi do il benvenuto a questo nuovo corso online, Dare forma a un racconto, il meglio di una storia.